Vai con la pubblicità, pizzeria trattorina dal museo, da Mario. Piascoli 18, Gorizia. Dopo 20 anni ritorna, vai. Sì, dopo 20 anni ritorna il grandissimo Mario, detto Marietto con Costanza e i suoi due figli, Jani e Thea, è ritornato alla grande per prepararvi pizze fantastiche e delle cene strepitose. Vi ricordiamo che il locale apre alle ore 10 del mattino e la cucina dalle 12 alle 23. Per prepararvi ogni delizia da voi richiesta. Marietto e la moglie Costanza vi aspettano anche per cene di lavoro, banchetti, battesimi e feste di ogni genere. Chiuso il lunedì. Benissimo, adesso sentiremo il Marietto e sentiremo la moglie Costanza. Una donna veramente favolosa, lavora, ecco Thea, Thea, guarda qua, coi figli, Thea, salutiamo. Salute ai tuoi amici, Thea. Eccolo qui, salutiamo anche i Jani, ecco il grande Marietto, il grande Pizzaiolo. Un personaggio veramente grande, sta insegnando moltissimo al figlio, vedi, è una bella cosa. Certo, è un'arte che si passa di padre in figlio con queste ricette che solo loro sanno. Ma guarda il pieno, il pieno, perché quando torna il grandissimo Marietto con la grandissima signora Costanza, è tornato lui e praticamente si... Il pienone. E si piace, poi è anche ubicato naturalmente in via Ascoli dove c'è il grande museo della sinagoga, sentiamola. Abbiamo aperto un'attività con amore. Certo, perché noi... Con tanta passione. È con tanta passione, allora da 20 anni adesso cominciamo alla grande, vero o no? Cominciamo da casa. Bene, fai un bel saluto a tutte le mamme, anche tu. Tu. Eccola, perfetto. È perché noi abbiamo registrato proprio il giorno 8, festa della mamma. Bene, allora ricordiamo, ricordiamo la conclusione, cara Doriana. Sì, le trattorie a pizzeria al museo da Mario, via Ascoli 18, Gorizia. Fine della pubblicità.